Ogni acrobazia è stata fatta da professionisti in aree liberi dal traffico senza mai creare fastidio né pericolo per nessuno Non imitate e guidate sempre con prudenza Da quando la tocca ci vuole ancora un pochino perché freni Ma puoi regolare? Sì 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 è regolabile Vado dal coso dell'edicola che gli chiedo se diamo fastidio Così me lo faccio amico Come cazzo si accende? Ma però si scende Gira e piazza Ah è Minchia se si alza questa Salve io e i miei amici abbiamo pensato di metterci qua per fare due foto Volevo solo chiederle se diamo fastidio Tutto qua Ok allora non arriviamo fino qua ci fermiamo prima Ok grazie mille Grazie lei E ma come si accende? È acceso No Minchia raga stra bella sta moto Cioè tu hai appoggiato 500 euro di casco sulla terra Ok Raga comunque oggi siamo ancora qua con l'ABS Willy Bar che è una figata Dovreste già sapere cos'è perché ci ho già fatto un video Non funziona ragazzi non comprate È invidioso perché ne vuole uno anche lui No comunque adesso la regoliamo un attimino E sta un modo veramente una figata da impennare Questa cosa è un sacco divertente Ovviamente vi lascio il link in descrizione Bella raga Oh fra vai piano figa Frena 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 Fra Frena 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 E vai piano Pare che se le macchine frenano gli entriamo nel culo Piano zio piano C'hai un 125 Piano Piano Fra Fra porco diaz Fra che cazzo stai facendo Frena frena Scambiamoci Vai Io non ci so più dietro di te qua Perché? Perché sei un c***o Zio non puoi guidare così Hai un 125 PORC Ci metti 5 anni a fare un sorpasso Non puoi stare dietro alle macchine e frenare così Cazzo Minchia se si alza Come bugata Ah ok Inchiazzarsi si alza Provala Inchiazzarsi si alza